perché nasce la proprietà privata con la nascita dell'agricoltura l'uomo ha l'esigenza di delimitare il territorio oggetto del suo lavoro nasce la proprietà privata l'uomo delimita il suo territorio che ha lavorato perché ritiene che solo lui che ha lavorato la terra potrà soffrire dei frutti nati dopo la semina a